Ok, ciao a tutti sono sempre Alessandro di CorsiDiGrafica.info Oggi voglio mostrarvi un servizio che ha dell'increatibile Ovvero è un programma vettoriale direttamente online Questo sarà comodo quando vi trovate da un vostro cliente O semplicemente siete su un computer che non ha installato il vostro adorato illustrator Quindi cosa faremo? Ci collegheremo ad aviari.com E ci si aprirà questo fantastico sito dove ci dà la possibilità di creare un file vettoriale Quindi come prima schermata abbiamo la larghezza e l'altezza Il programma è in inglese ma nessun problema, è molto simile a tutti gli altri Quindi facciamo finta che ci vada bene la larghezza e l'altezza Facciamo create e ci si aprirà il nostro famosissimo documento di lavoro Guardiamo un attimo l'interfaccia grafica molto semplicemente Qui abbiamo i nostri famosissimi strumenti Qui sopra abbiamo un nuovo documento Salva, carica, importa, esport, eccetera Edit, rule, che sono queste qua Le guide, i righelli, rules, scusate Path, object, feedback, eccetera Qui abbiamo il nostro strumento per zoomare La nostra manina per muoverci E le nostre palette famosissime dove abbiamo all'interno i nostri livelli Eccetera, eccetera, eccetera Qui sotto abbiamo la possibilità di cambiare il colore di riempimento O la traccia Facciamo una prova molto rapidamente Cliccando sullo strumento T Ci suggerisce Lui ci lascia hello world Qui abbiamo la possibilità di scegliere il nostro font Lasciamo area La grandezza, il colore Background color Line 8 Se lo vogliamo Centrato Sulla destra, eccetera, eccetera Ok Guardiamo molto rapidamente come funziona Scriviamo ciao Come va E tramite il nostro Possiamo Il nostro quadrettino Qua possiamo ingrandire o rimpicciolire Ad esempio Possiamo andare a sostituire il colore Facciamo così Ok E come possiamo vedere Il nostro colore diventa verde E rosso, scusate Sto diventando daltonico Ok Quando Dobbiamo fare doppio clic per spostarlo Poi abbiamo il nostro famosissimo pennino Dove anche qui Tenendo premuto Possiamo fare la curva O semplicemente Angolo Un angolo Cliccando qui sopra Possiamo andare a cambiare il colore Come riempimento Mentre di qua Andiamo a cambiare il bordo Facciamo tipo azzurro Ok Qui Stroke Tipo solido Non linear Eccetera Anche da qui possiamo Abbiamo la possibilità di Modificare il nostro tratto Qui abbiamo i nostri livelli Con tasto destro Possiamo fare remove Sull'oggetto Ad esempio Tasto destro Filters Duplicate Possiamo fare un duplicate Lui ci duplica il nostro oggetto Andiamo qui Et voilà Tasto destro Remove Ok Quindi lo possiamo cancellare E Alla fine Possiamo anche Anche in questo caso Mantenendo premuto shift Lo manteniamo Lo manteniamo proporzionato Guardatevi un po' Tutti i pannelli Sono le solite cose Per chi sta seguendo già il corso Sul mio blog File Export Possiamo salvare un pdf Una svg Un eps Una bitmap Ad esempio io faccio Esporta pdf Naturalmente serve una linea Che funzioni Ok Autorname mettiamo alle Document prova Document keywords Facciamo niente E save E ci domanderà Download dove Lo chiamiamo prova Vado sulla scrivania Ho salvato con l'invio E voilà Prova il nostro Testo Probabilmente L'ho salvato male In più abbiamo la possibilità Facciamo un nuovo documento Ci domanda se vogliamo Cancellare tutto In poche parole Import file Abbiamo anche la possibilità Tramite Choose a file upload Sfoglia Ci porterà sul nostro Computer Io importo una Bandierina Upload E lui ci carica La nostra bandierina All'interno del Programma Eccola qui Ok Possiamo ingrandirla anche in questo caso Se ci sbagliamo Se ci sbagliamo abbiamo Edit Undo O il famosissimo Control Z Che già conosciamo Ci possiamo avvicinare E volendo possiamo andare a ricreare la nostra bandierina Come? Facendo così Con i nostri famosissimi strumenti di disegno Possiamo andarla a ridisegnare Ok? Bene Questo è un utilissimo strumento Per chi vuole Modificare i file Direttamente online Spero che vi sia piaciuto Con questo è tutto Vi saluto Ciao da alle Ciao